Ciao, sono Beatrice, sono un medico anestesista e reanimatore presso l'azienda ASA della Romagna. Io faccio il medico e reanimatore presso la terapia intensiva, quindi curo gli ammalati, quelli che sono in condizioni più critiche, i malati più gravi, quelli appunto che sono ricoverati presso il reparto di reanimazione. Inoltre svolgo anche servizio di emergenza territoriale, quindi faccio servizi nel soccorso e vado a recuperare i malati vittima di incidenti stradali o di patologie cardiologiche o neurologiche o altri tipi di patologia. Quindi gestisco quella che è l'emergenza, l'emergenza del paziente critico. Allora, io ho fatto sei anni di medicina presso l'Università degli Studi di Bologna più cinque anni di specialità. Una volta finito il percorso di studi presso l'Università di Bologna ho fatto cinque anni di specialità presso l'Università di Ferrara, specialità in anestesia e reanimazione. Fare il medico non è fare una professione normale come le altre, scegliere di fare medicina anche quella è un percorso di studi che comunque richiede impegno e passione, perché sono sei anni, sei anni sono lunghi da affrontare e quindi richiede un impegno e dedizione e soprattutto non hai molto tempo per possibili distrazioni. Questo è quello che comporta i lati negativi che comporta scegliere di fare medicina, mentre invece per le cose positive che comunque è un percorso di studi è molto importante e che ti arricchisce non solo mentalmente e culturalmente ma anche a livello umano, perché comunque anche nel corso degli studi si fanno dei tirocini, quindi sei a contatto con i pazienti, con i malati e con gli altri colleghi. Quello poi che tu andrai a fare una volta terminato il percorso di studi e che poi rifarai nella tua quotidianità, perché fare il medico è una missione, sono parole magari già dette e sentite, però in realtà è vero, è un po' una missione nell'aiutare gli altri e uno poi ha un ritorno che anche a livello soddisfazione, poi quando vedi che i pazienti che segui tu nel percorso vanno bene, stanno bene, grazie al tuo aiuto è una cosa che riempie di gioia e di soddisfazione. Allora io ho terminato il corso dei sei anni di medicina presso l'Università di Bologna, come vi dicevo ho scelto come specialità anestesia e reanimazione, perché comunque sono sempre stata appassionata per l'emergenza e tutto quello che insomma rappresenta il mio lavoro in quanto noi siamo portati comunque a lavorare sull'emergenza, sui pazienti quelli più gravi che versano in condizioni più critiche. Allora in condizioni di emergenza ad esempio gli incidenti stradali, gravi incidenti stradali, è capitato diverse volte nell'ambito del mio lavoro di gestire pazienti che avevano avuto un incidente grave, non solo nel pre ospedaliero, quindi andare a recuperare dei pazienti che sono magari incastrati oppure che sono stati sbalzati dalla moto, insomma un incidente con una dinamica importante e recuperarli insomma fare una terapia resuscitativa di emergenza e poi con l'ali soccorso portarli poi verso l'ospedale di Cesena che è appunto il trauma center dove poi lì proseguono l'iter diagnostico e terapeutico per insomma una terapia in emergenza ecco. Allora però dà dei piaceri innanzitutto perché altrimenti non si può fare questo percorso di studi e nello specifico il mio lavoro e dà molte come vi dicevo soddisfazioni per il fatto che poi quando vedi che i pazienti vanno bene e che comunque tu tra virgolette gli salvi la vita perché così insomma questo ti riempie di gioia, soprattutto se ci metti passione e fai tutti i giorni questo tipo di lavoro ecco. Cose che magari è un lavoro comunque impegnativo, fare il medico rianimatore è un lavoro molto impegnativo che richiede insomma tanta concentrazione, tanta determinazione, anche fatica proprio in termini anche di fisicità a volte. Le ore di lavoro sono comunque parecchie e poi anche i turni, i turni insomma di notte, i turni di giorno, sabati e domeniche, tante volte fare il medico, in particolare lavorare il medico ospedaliero comporta lavorare per Natale, per Capodanno, Pasqua, insomma non si conoscono festa ecco, né sabati né domeniche, a differenza magari di altre professionalità sempre mediche che hanno più una turnistica, anzi non hanno una turnistica, magari un tipo di lavoro che comunque è metodico e infrasettimanale. Secondo me allora devi avere passione e ti deve piacere, io ad esempio sin da quando sono bambina a me tipo l'emergenza, le urgenze eccetera, anche io guardavo Yara per dire ed era affascinata a guardare Yara, per cui sì da bambina io ho un disegno che avevo fatto all'asilo, non so che dove, insomma avrei voluto fare la dottoressa, così è stato. Sì, te lo devi sentire dentro secondo me, magari sono frase fatta, ma in realtà non lo sono, te lo devi sentire dentro, soprattutto se uno fa il medico nell'emergenza urgenza te lo devi sentire dentro e cioè devi avere motivi, magari non devi farti prendere dall'ansia, devi cercare di essere più tranquillo, anche quando a volte tranquillo non lo sai ecco, però devi cercare comunque di avere un autocontrollo per appunto gestire queste condizioni che sono critiche e insomma che giocano sulla vita e la morte dei pazienti poi. Allora vi ringrazio per questa intervista, vi faccio un enorme bocca al lupo per la scelta che poi andrete a intraprendere.